Gioacchino Nicastro resta il sindaco di Casteltermini, respinto il ricorso del candidato non eletto avvocato Filippo Pellitteri e di altri 74 elettori del comune di Casteltermini. Gli stessi, con ricorso depositato al Tribunale de Grigento, avevano convenuto in giudizio il primo cittadino Nicastro per sostenerne la non-eleggibilità e quindi dichiararne la decadenza dalla carica di sindaco. Per Pellitteri e gli elettori in questione, Gioacchino Nicastro sarebbe stato ineleggibile in quanto amministratore delegato della società Geomatrix, che gestisce una residenza sanitaria assistita convenzionata con l'aspe di Grigento e nel cui distretto sanitario ricade la struttura. Secondo la normativa prevista, a dire dei ricorsisti, la condizione di amministratore del neosindaco avrebbe dovuto sangirne la non-eleggibilità. La difesa del primo cittadino, gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha però sostenuto come la funzione di amministratore non sia inquadrabile né in quella di rappresentante, propria del presidente, né in quella di dirigente. Nicastro, pertanto, non poteva essere assoggettabile alla misura di ineleggibilità prevista per norma. Il Tribunale di Grigento ha accolto le tesi difensive degli avvocati e, considerando che le norme regionali limitano la non-eleggibilità ai legali rappresentanti e che Nicastro non è rappresentante della struttura in questione, ha rigettato il ricorso. Di fatto, dunque, Gioacchino Nicastro, che lo scorso giugno, in occasione delle comunali, aveva ottenuto circa 2.200 preferenze, mantiene la carica di sindaco del comune di Casteltermini.